Il primo esercizio è un'estensione contro resistenza elastica, attivando il muscolo prima in concentrico, poi in eccentrico. Aumentiamo il carico eccentrico e aiutiamo la fase concentrica con l'arto controlaterale libero. Ad alta velocità angolare inseriamo una fase di arresto. Adesso alziamo ancora la velocità angolare. Lo stesso tipo di esercizi può essere proposto anche per la muscolatura flessoria. Per stimolare le capacità coordinative, applichiamo una resistenza in estensione e una inflessione ed eseguiamo esercizi in modo contrapposto. Con il carico sullo stesso gruppo muscolare si possono effettuare movimenti simmetrici e asimmetrici a varie velocità angolari. Oltre il calzare, che permette di assecondare l'esercizio tenendo il piede intra o extra ruotato, oppure prono o supinato, possiamo applicare la resistenza direttamente su una cavigliera. Oppure, utilizzando una fascia zavorrata, possiamo eseguire esercizi in modalità esotonica.